bella a tutti ragazzi sono Trevezzese oggi vi farò vedere che domenica Happy Wheels come promesso questa qui per me è la prima puntata perchè sto registrando i video con la webcam per questo cioè so che ne ho fatto uno dovrebbe essere la seconda su Happy Wheels però per me è la prima comunque nel titolo metterò seconda puntata allora direi di iniziare andiamo su Browser Levers ne farò 6 o 7 di livelli nel browser scusate la pronuncia perchè non so fare un cazzo Felling Down cioè è un felling un po' down allora direi di dare dei nomi a questi merdine queste qua questo qui lo chiameremo Barbo Marco perchè mi da l'idea di un barbone sulla sete a riterle modificata che cacchio è che cacchio è no 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 allora allora tutti io me li trovo questi cosi va bene you are falling down mamma da fuck andiamo su andiamo un po' scendiamo sotto 99% impossibile siamo sicuri andiamo volta per volta questo qui lo chiameremo visto dalla posizione Inculator Inculator sei tutti noi la ruota è ingastrata per terra non si sa perchè abbiamo perso un piede stiamo squartando il nostro culo dovremmo cambiare personaggio questo qui lo chiameremo allora il bambino mi da l'idea di steward e lui jack jack e steward vai jack perchè è diventato bianco non si sa perchè steward è morto mi dispiace steward lasciamolo morire una mina una mina vedi che ti ho visto bezzamato l'ho detto che l'avevo vista perchè perchè vai distruggi tutto vai vai allora direi di cambiare livello allora e diventa sempre bianco non si sa perchè one woman fack mu fack mu enjoy i am vabbè non so leggere basta uh con le moniti bellissimo questo è bellissimo da all of shit guardate la testa di marbo marco uh uh mangia mangia questo qua sarebbe l'ingulator vai l'ingulator sei mio l'ingulator forza ingulate il mio trattore no abbiamo perso i piedi no questo sarebbe jack 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 sei mio coppia bella questa chi è oh merda l'abbiamo risparmiata perchè non sappiamo il nome sei fortunata oh sei mia no mi da la monitina solo se riesco a farmi tutti i corpi porca miseria no mi dovevo fare mia moglie l'obesa mia della mia moglie maledizione e ci siamo anche ingastrati dove si è mai visto un trattore che accelera davanti lo voglio ripare perchè è troppo schizioso questo gioco uff mi salto mangia mamma marco è finito di rubare i soldi che cacchia buongoletta si sta ingurando tutto vai jack sei tuttavia questa qua è quella che non sappiamo chi è la monitina nooo c'è la piglia secondo me la piglia non la piglia è malabesa come la faccio a prendere maledizione non cadere non cadere non cadere non cadere allora andiamo avanti freestyle freestyle su happy will allora siamo arrivati qui steward cosa obesa mania ce l'ho obesa mania oh mi ha minato un calcio brutti figli questi qua lavorano insieme lavorano insieme guarda guarda please no please no ma fate ma non mi riesco a usare meno mcdonald più palestra stiamo aggrappando ho bisogno di una sedia a ratella aiutatemi ho aggrappato la terra si sta andando a capatene la terra cioè qual è lo scopo nona giusto per capire brutto steward di merda levati per piacere una capriola si è imbestruata se guarda un run ti a re oh mio dio vabbè capiamo questo non è un freestyle è tortura my lost live no non mi piace questo dal titolo faccia triste no non mi piace zook katana già l'avevo visto non è niente di importante falling down no già l'avevamo visto ok vediamo crazy glitch vediamo un po' allora siamo arrivati a besamania ragazzi questo qui non so che titolo darvi vi dovete aiutare scrivete nei commenti mi raccomando aiutatemi perchè dobbiamo dare il no juba 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 ma che cacchia sarò ma c'è su me ma che cacchia sarò faccia no me basta è evitato i minori di 18 anni nemmeno io lo posso vedere allora che cosa sta succedendo è diventato piango ok andiamo no va bene l'abbiamo fatti tutti ma i ragazzi quando si aggiornano la pagina la prossima day vi faccio vedere altri video spero che questo video vi sia piaciuto mettete un mi piace qui sotto e anche un commento ci vediamo alla prossima bella a tutti ciao